Perchè stai dividendo il letto? Sei timido, te l'ho già detto. Non voglio che mio cugino sa della nostra storia, va bene? Questa storia mi sta stressando. Guarda, io posso capire i tuoi, eh? Ma tuo cugino no. Trent'anni dice che fa il cantante, l'artista. Ancora i pregiudizi su queste cose? Ma che cos'è un troglodita tuo cugino? È un troglodita? Eh, dimmelo! Madonna, è qui. Vai, senti, finisci tu. Vai, bambolotto, vai. Alfredo! Madonna, ma quante cose hai portato? Eh, tra mia madre e tua madre. Infatti. Vieni qua, vieni, abbraccio il cucinetto. Vieni. Bello, vieni qua. Oh, tua mamma mi ha detto di Angela, mi dispiace. Sì, vabbè, mo, fregatene, eh? È stata una doccia fresca. Sì, ma buon pasta, non ci pensare. Ehi, qua è pieno di ragazzi. Mo sta a Milano, ci devi divertire. Ehi, pensate a me. Ciao. Lui è Manolo. Piacere, sono Manolo. Ciao. Checco. Ciao. E come è andato al viaggio? Guarda, non mi fate pensare al viaggio. Che è successo? Non va a capitare un ricchio nel mio scombartimento? Proprio di fronte a me. Terribile. E, pomodorini, tieni compagnia a che? Come vengo io? Ma pure le ferrovie dello Stato, dico. Ma fate uno scombartimento a parte per questa gente. Esatto. Cioè, con gli anziani vicino. Dove finiremo? Sfiga. E la prima volta che viene a Milano? Sì, prima volta. Ti fermi molto? Sì. Ecco. Al frenamento, canti? Veramente, io mi scrivo, mi compongo, mi arrangio. Cioè, sono musicista completo. Senti, e tu che fai invece a Milano? Personal Trainer. Ah, il Personal Trainer. Fighissimo. Ma sì, con i ritmi che ci sono oggi, il Personal Trainer è fondamentale. Certamente. Vieni, che cosa? Ti ho fatto la stanza. Vieni a vedere. Ciao, eh. Ci vediamo dopo. Sai, io e Manolo dividiamo la casa, che a Milano gli affitti. Dai, immagini. È vero, Manolo? Mmh. Dunque, qui dorme Manolo. Dorme Manolo. Qui c'è il bagno. Che? E questa è la mia stanza. Ah, bellissimo. Vieni, ti faccio vedere la tua. Vieni. E tu dormi qua. Eh? Allora. Adesso fatti una doccia, che io nel fratello preparo la cena. Alfredo! Che c'è? Sandy, ma... Ma che cos'è il Personal Trainer? Il Preparatore Atletico. Ma c'è la... la ginnastica? La ginnastica. Ah. Ma va a far un culo, ma... Che c'è? Allora, primo, io là dentro non ci dormo. Mmh. Secondo. Adesso dici subito al tuo cugino che io e te stiamo insieme? Come faccio a dirgli una cosa del genere? L'hai vista? Allora, stasera a cena faccio la checca. Non lo faresti mai, non il coraggio. Ah, no? Esagero. La checca pazza! No, la checca pazza, no. La checca pazza. La checca pazza, no, la checca pazza, no, la checca pazza, no.